La maternità e l'infanzia, il dare una mano a chi non ce la fa e il donare un sorriso per alleviare le difficoltà. Di questo si occupa da sempre il Comitato Progetto Uomo, realtà di ausilio alle gestanti e alle mamme in difficoltà e occupata anche nella realizzazione di laboratori artistici e artigianali. In quest'ottica i responsabili del Comitato hanno pensato di dar vita a piccoli laboratori di cucito denominati Brico Bebé, in cui vengono creati manufatti da offrire ai bebè assistiti dai centri di aiuto. Il progetto è risultato vincitore del concorso Orizzonti Solidali, promosso dalla fondazione Megamark, realizzato in collaborazione con i supermercati AEO, DOC, Famila e Iperfamila e con il patrocinio della Regione Puglia e dell'assessorato regionale al welfare. L'iniziativa si rivolge alle mamme e alle volontarie che frequentano i centri di aiuto di Andria e di Biceglie, ma i manufatti però saranno destinate anche ai centri di Barletta e di Trani. Abbiamo chiesto alle mamme e alle volontarie dei due centri maggiori dettagli sul loro operato. Come mai volontari del Comitato Progetto Uomo in questo progetto? In questo progetto a parte perché voglio aiutare, aiutare le mamme di difficoltà perché sono mamma di tre figli e so com'è crescere dei bambini. E poi a me piace, sono volontaria da da quattro anni già. Possiamo mostrare alcuni dei lavori che avete realizzato finora? Sì, queste sono delle borse che stiamo definendo già. Questa è qua. Questa è una borsa finita già. Mi sto occupando di applicare i loghi su borse, copertine, insomma tutto quello che si fa a mano qui. Io sono una mamma, ecco non sono proprio volontaria però mi piace il fatto di venire qui a collaborare anche non solo per diciamo ricevere ma è bello anche prestarsi per socializzare anche certo con altre mamme quindi scambiarsi opinioni sui bambini, sulle proprie esperienze e condividere un po' di tutto. Di cosa vi state occupando questa mattina? Vabbè, di meno o male di cucire, di ripassare, cioè comunque si insegnano i vari punti, comunque impastire, queste cose qua. Mi hanno comunque aiutato sia con il bambino e anche diciamo stando qui è un modo anche per evadere un pochettino per stare in compagnia, socializzare. Che io parlando in prima persona, avendo quattro figli, facendo la mamma a tempo pieno, questo è pure un momento in cui puoi avere un po' di spazio per te alla fin fine. Qual è il clima che si respira? Di amicizia, di solidarietà? Sì, infatti siamo tutte unite, ci si vede anche fuori di qua. Come mai la scelta proprio dell'associazione Comitato Progetto Uomo? Perché comunque ci aiutano e anche perché stando insieme almeno, non solo in casa magari ci si vede qua, ci rilassiamo. La fondazione Megamark ha reso pertanto possibile la realizzazione concreta e solidale di un valido progetto che va oltre l'assistenzialismo, ma abbraccia lo stare insieme, la solidarietà e l'apprendimento di mansioni artigianali. Tutto al fine di aglietare la vita dei più piccoli e dei loro genitori.